La strage della Benedicta, avvenuta nell'aprile 1944, fu un'esecuzione sommaria di partigiani appartenenti alle formazioni garibaldine, compiuto da militari della Guardia Nazionale Repubblicana e reparti tedeschi, in località Benedicta, presso Capanne di Marcarolo, nel comune di Bosio, nell'Appennino Ligure. Per ricordare i fatti, si è svolta presso l'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria la Serata Benedicta, organizzata in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Presentiamo il nuovo DVD Il Senso della Libertà, che intervista i protagonisti dei fatti che si sono svolti alla Benedicta. E' anche l'occasione per presentare al numeroso pubblico i lavori che si sono svolti nel Parco e nel Sentiero della Pace, nel recupero delle cascine e contemporaneamente i lavori che si stanno svolgendo per il Centro di Documentazione.